sorpresa ma non è ancora il mio compleanno infatti oggi è il compleanno di mummi ma quanti regali ma sono tutti per te un giochino ma guarda che sorpresa per l'alimentazione del nostro mummi invece è importante non avere mai sorpreso monge monoprotein il pet food che parla chiaro perché il miglior regalo per lui sono i patè monge tanti gusti diversi ma con un solo tipo di carne in ogni ricetta altamente appetibili senza coloranti e conservanti artificiali un'alimentazione bilanciata grain free e gluten free monge monoprotein è made in italy e no cruelty test le emozioni che ci regala mummi sono la sorpresa più grande e dicono tutto sul suo benessere come monge anche mummi la pensa allo stesso modo monge la famiglia italiana del pet food grazie a tutti